Salve a tutti ragazzi e ragazzuole, qui è Dicelloquando94 che vi dà il benvenuto nel finalmente tanto atteso, forse, ottavo episodio di Minecraft Adventures. Allora, come state? È passato un bel po' di tempo dall'ultimo episodio, il 7, che avevo caricato, solo che tra la voglia, tra la scuola, tra le vacanze estive, tra cazzi vari, ero ma mia, non ho avuto tempo, voglia, soprattutto voglia, di fare altri video. Però adesso, ho comprato anche il microfono nuovo, quindi spero che mi sentiate bene, se no ciccia, e quindi sono tornato con questo ottavo episodio. In questo ottavo episodio continueremo la nostra piccola esplorazione della nostra cavernina. Ah, come vedete vi lascerò il nome della Texture Pack qui in sovraimpressione, poi lo metterò da qualche parte nel montaggio, col nome della Texture Pack perché è impronunciabile. Cioè, sì, lo so il nome, ma da pronunciare è un po' complicato, non capireste, quindi ve lo lascio in sovraimpressione. Quindi direi di andare avanti, continuando nell'esplorazione di questa cavernina. Allora, qua non c'è niente, aspetta che faccio un po' di torciame, però mi ricordo di avere, ah, mi sa che l'ho eliminata quando, quando sti cazzi. Allora, mettiamo un po', 36 torce dovrebbero bastare. Mettiamo un po' di luce perché se no, spawnano mostri. Ok, possiamo andare avanti. Comunque ragazzi, vi avviso che, ehm, vi avviso niente, cazzo, c'è un borco giuda. Ah sì, questa è la cosa che avevo scritto, ogni tanto prendiamo un po' di iron, bellissimo. Oh ragazzi, questa texture pack è troppo figa. Cioè, sì, la mia preferita è rimanere come un cazzo, uno scheletro. Dicevo, la mia preferita è... Ehi, c'è un bordello laggiù. Ah, scusate, ho il raffreddermi pure uno zombie, coglionazzo. Dicevo, comunque sia, la mia texture pack preferita è... E rimane comunque la LB fotorealism, è la madonna. Vediamo un po', niente, niente. Ok. Dicevo, la mia texture pack preferita è la LB fotorealism. Però devo dire che anche questa è davvero cazzuta come texture pack, perché è davvero bella, devo dire la verità. Ok, qua non c'è una sega di niente, quindi continuiamo a raccogliere iron su iron. Vai, ehi, oh, fammi uscire. Ok, boh, qua non c'è più niente, quindi direi di chiuderla. Grazie. Uno, due. Dai, rubiamo materiale a madre natura. Opla. Uh, qua mi ricordo tutta la scalata che avevo fatto, paurosa. Ok, quindi direi di tentare di scendere. E' la madonna de' dio. Fatemi vedere un attimo, allora. Carne, cielo. Spada in pietra, spada in pietra qui, spada su, spada giù. Ok, continuiamo la nostra bella discesa. Sarà un bel complice. E' la madonnina. C'è un'orgia qua giù, eh. Oh, cazzo, ho paura. Ah no, meno male. E' sarà una bella caduta da qua, meno male che mi sono arrormato. Continuiamo a prendere questo ferro che... Servirà. Intanto continuo a scendere. Con una paura fottuta che i mob mi arrivino all'improvviso. E mi spacchino il kill. Il kill, che bella pronuncia. Però sti rumori da zombie... Uè! Dicevo, sti rumori da zombie non mi gustano assai. Continuiamo a far spaccare, spaccare. Ah, mettiamo luce perché sennò voi non vedete, è giusto. Opla. Questo suono magnanimo. Ok, dicevo, approfitto di questa parte noiosa in cui sto piccolando per annunciarvi un paio di cose. Allora, Assassin's Creed Minecraft, l'altra mia serie di Minecraft ispirata all'Assassin's Creed, riprenderà a breve. Dobbiamo... Ancora la base degli assassini che vedrete è molto bella. Quella che avete visto nel sogno della sequenza 2. Solo che sarà un po' modificata. È anche troppo, però. Intanto c'è questo zombie che mi rompe colore. Addio! Addio! Vaffanculo! Vaffanculo! L'ultimo! Mi ha fatto venire un coccolone. Dicevo, sì, sarà un po' modificata la base, però poi sono sicuro che vi piacerà un casino. Intanto io sto crepando dalla paura. Anche perché... Uh, cade e muore. Cazzo, pago paura. Ok, non riesco a fare un discorso serio. Quando sono... Cazzo! Eh, merda! Uh, che ci faceva quella torcia di là? Merda, merda in culo, merda in culo, merda in culo, merda in culo, merda in culo. Merda in culo, merda in culo, muori, muori. Dai, ma gasci, tua sorella. Ti venga un cancro al cervello. È la madonna! No, no, no. Via, 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 via. Dobbiamo... Devo aggirare. Devo aggiriamo. Ho una paura fottuta. Mi piace troppo il rumore quando mi... Vediamo un po'. Uh, stai qua giù te, eh? Eh, cazzo. Cazzo ragno. Cazzo ragno. Cazzo ragno. C'è un cazzo ragno. Un nuovo tipo di ragno. Un cazzo ragno. Prepariamo... La... La madonnina! Cazzo, 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 cazzo. Cazzo al quadrato. Cazzo al quadrato. Cazzo cubico. Cazzo cubico. Dovete morire. case... Morite... Morite... Mori, 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 mori. Mori, mori... Ok. Uno è andato. Adesso all'altro. Fatevi sotto mezze sede. Fatevi sotto mezze sede. Fatevi sotto mezze sede. batteria quasi carica chi se ne frega mezze seghe uno è andato ok manca solo l'altro muori stronzo e la madonna ci mancavi solo tu ora ok ora tocca a te oddio creeper mio dio spinaccio verde congelato aia non ha fatto un gran che danno aggiungerei mettiamo un po di luce perché qua qua cosa c'è oddio lava intanto prendiamo un po di carbon carbone serve ragazzi devo dire la verità non so quanto siamo la prossima volta mi sa che uso il cronometro del mio orologio a me non passata brutta ragazzi devo dire la verità è stata una brutta esperienza ok scusate ho toccato il microfono con le dita mentre mi stavo grattando il naso ok questo ui lapiscazzoli prendiamo non serve niente però è bello averlo quanto l'ha piscato non mi fare prima la roba qua ecco è meglio stare attenti a non finire nella lava qua chiudiamo perché è ovviosa come cosa direi di mangiare perché sono a corto di cibo ok ok questa è una figata questa è una figata al quadrato ragazzi ok diamante oh aspetta merda je n'avec pas le le cose giuste eh dannazione mi tocca tornare su a quanto pare ok torniamo su oh merda no 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 troppa paura a tornare su ok allora mettiamo una torcia qui prima di tutto ok prendiamo ancora il carbone velocizziamo questa parte sì forse la velocizzo poi vedrò ok cerchiamo un escamotage per uscire da qua intanto sento cazzo oh la madonna de dio oh cazzo allora ok allora ok allora eh si oddio enderman ho finito un enderman e la cosa non mi ha fatto bene ok vediamo un po' una specie di oddio oh cribbio la bagasse mamma doia non ci provare tu non ci provare più la bagasse mamma doia cadi fatti male assassino pezzo di sterco non t'azzardare mai più chi se ne frega dell'esperienza porco giuda uff che cazzo vabbè però anzi no ho un'idea più migliore andiamo qua chi se ne frega torniamo ai vecchi metodi per il massimo spacco tutto uh ciao zombie ah voglio fargli uno scherzetto allora vediamo un po' zombino curioso zombino curioso zombino curioso zombino curioso fatti ammazzare qua prendiamo questo iron anche se non riuscire a prenderlo invece siiii ok cerchiamo di tornare su ok dove mi ero fermato neanche me lo ricordo ah si eccolo questo è il posto ok ok ehhh allora si tornava su da qua si si ecco si uscita in alto a destra perfetti cartelli sono utilissimi eh si che cazzo è si perdiamoci subito il mio piccolo più uscita oh merda 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 qua no no qua non vado mhm bella merda proprio una bella merda servila la francese ma si era così in francese? ok intanto si sbacchiamola con la torcia ok ma non era qui l'entrata a quanto pare oh invece si forse invece si che bello il lag improvviso e invece no invece no invece no lalalala dai riuscirò di uscita prima o poi oh diro ragazzi questo è oh 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 aspetta 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 eccolooo finalmente uscita uh cosa va? si grandissimo uuuh da là ok iniziamo a cuocerlo Allora, pppppp, dov'è? Uno e dos Ok, prendiamo altro minerale di ferro e lo mettiamo qui Occhio di ragno, me ne faccio una sega, quindi lo mettiamo qui Il legno può servire, quindi me lo piglio Bastone, lo stesso Lapiscazzoli lo mettiamo qua Pietrisco lo teniamo, può servire Questo teniamo tutto qui La selce, uh, posso fare subito l'accendino Uh, grande, grande, posso farmi anche una bella armaturozza Molto bene, mi sento molto figo Prima facciamo il cazzo di accendino Non serve a niente, però è bello averlo Eccolo qua il mio accendicazzi Ok, cosa si può fare nel frammentere? Potremmo prendere qua Workbench Lapiscazzoli Ecco, questa corda che non me ne faccio niente Anzi, no, sì, una cosa però la posso fare Faccio una bella canna Non pensate male ragazzi Uno, dos Olè La canna da pesca super potente Allora, questo mettiamolo dentro perché non serve veramente Andiamo qua Questo lapiscazzoli potrei farci un blocco Vediamo un po' Un, due, tre Uh, un altro, dai Ok L'utilità del lapiscazzoli è solo per questo Fare un cazzo di cubo Bellone Si potrà spaccare? Si, perfetto Si spacca normalmente Ok, nuovi lingotti posso iniziare già a fare Allora Ehm, dov'è? Facciamo Il piccazzo in ferro Ne facciamo due per sicurezza La pala La lasciamo così Il coso è lo stesso Ehm Fatemi pensare Allora, il piccone è più importante La pala possiamo lasciare quella in pietra La spada Ehm La spada Vabbè, prendiamocela lo stesso Ehm Ma sì, facciamoci anche la pala, dai Sprechiamo Ok A che punto è? Quattro Allora, cosa posso farmi? Vediamo un po' Copricapo, veste, calze, scarpone Allora, tutto mi faccio la veste Perché è la più figa Allora Mi sembra che ne servano Un po' di più Si, servono altri quanti? Altri tre Ok, intanto ragazzi Che vi dico? Lanciamo un po' a cazzo questa Canna da pesca E niente ragazzi Quindi direi di concludere qui Non so ancora quanto sono arrivato Ma penso di essere arrivato già qui Quindi c'è tanto questa scende Beh ragazzi Quindi lasciamo che questo Iron cuocia E torneremo Tornerò perlomeno Nel prossimo episodio Quando mi sarò fatto almeno Una corazza in metallo Quindi Ciao a tutti E al prossimo episodio E come dico sempre Amosvera! Ciao a tutti i giorni Ciao a tutti i giorni